Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con una nuovissima puntata di Spillin' It's With Me, Cristiano Cervigni, il secondo episodio di questo 2024. Se vi siate persi il primo, ve la lascio qua sotto nell'info box e abbiamo parlato di un caso di true crime, quindi per quell'occasione c'è stato lo spin-off, Spillin' The Tea è diventato Spillin' The Crime. Vi rinnovo l'invito a farmi sapere se ogni tanto vi piace anche quel filone, ma dopo la serietà di questi giorni, ragazze e ragazzi, torniamo a parlare dei nostri VIP italiani, perché queste feste di Natale sono state un toccasana per il gossip e per la cronaca rosa, dato che Belen Rodriguez è un fiume in piena. Ora, io devo fare un PS, ok? Perché quando ho l'occhiale adesso mi si vede l'ombra. Scusate, adesso me li tengo su, però per gli Spillin' The Tea mi servono perché devo andare a leggere tutto quello che vi devo raccontare. Fatto sta, andate a prendere la vostra bevanda o snack preferito. Io per l'occasione mi sono comprato la tisana calmante, coccole dalla natura, perché non bisogno, perché noi qui abbiamo iniziato il 2024 insieme alla grandissima commiglione di video, ma io sto ancora malino e quindi dobbiamo riguardarci. Ma mettete mi piace a questo video, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, commentate scrivendomi tutte le vostre opinioni. Quindi, sorso iniziale, brucia, beh fa bene alla gola, direi che possiamo andare a parlare di Belen Rodriguez perché noi ci eravamo lasciati nel 2023 in cui abbiamo discusso del drama di Belen, in quanto con un'intervista esclusiva a Domenica Inn da Mara Venier, lei si è lasciata andare ad una lunga confessione in cui parlava per la prima volta delle corna che le avrebbe fatto Stefano De Martino, dicendo che comunque lei aveva sgamato almeno 12 ragazze. Di queste 12 ragazze però noi non sappiamo il nome, non sappiamo se ci fossero anche persone note al mondo dello spettacolo o soltanto gente comune, perché Belen non ha fatto nomi, ovviamente. Però Belenita Nostra ci ha voluto fare un regalo di Natale dove mi ha lasciato letteralmente scioccato e senza parole, mi ha fatto passare le vacanze di Natale con l'ansia di dover fare questo video. Però, meglio tardi che mai, perché vi vado a raccontare qualsiasi aggiornamento fino ad oggi. Tutto ha inizio il 24 dicembre, quando Fabrizio Corona ha iniziato a parlare per primo della lite natalizia che ci sarebbe stata tra Belen Rodriguez e uno dei suoi ex Antonino Spinalbese. Questo nome, ragazze e ragazze, non Belen, quello di Antonino, non è nuovo per gli amanti di Spill in the Tea di questo canale, perché forse ve lo potete ricordare per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Solo per quello. E perché è l'ex di Belen, ovviamente. Fatto sta che, forse non lo sapete, Belen, dopo la prima relazione con Stefano De Martino, dopo aver avuto il primo figlio, Santiago, da Stefano, quando si erano lasciati lei aveva conosciuto questo Antonino Spinalbese, che era il suo, possiamo dire, parrucchiere, e anche con lui poi ci ha fatto un figlio, più precisamente la figlia Luna Marie, ma anche questa relazione è naufragata e quindi poi ognuno si è fatta la propria vita. Lui, grazie alla sua ormai ex frequentazione con Belen, è andato al Grande Fratello Vip, quindi si è fatto un po' di soldini durante quei mesi, lei ha continuato la sua vita tranquillamente. Ma non è tutto oro quel che luccica, in quanto Fabrizio Corona scrive questo. Nell'ultima apparizione televisiva Belen ha parlato di tutto e di tutti, tranne di lui, Antonino Spinalbese, padre della sua bellissima bambina. Come se di questa storia non le fosse rimasto nulla, ma proprio in questo momento storico, sociale, dove le femministe accusano gli uomini di patriarcato, quando si tratta di figli hanno sempre ragione le donne. Sussiste come un'eccezione, forse quella che conferma la regola, chissà. Eppure, se si tratta di divorzio, custodia di bambini, mantenimento, il patriarcato svanisce del tutto e anzi, avviene l'esatto contrario. Di questo però nessuno ne parla. E poi continua. E così, Antonino, mordendosi le mani sofferente, si è visto notificare un bel pacco. I dettagli non ve li vogliamo raccontare, perché di mezzo ci sono i bambini. Quello che vi possiamo dire è che Belen, per quanto riguarda la figlia Luna Marie, per le vacanze natalizie, è deciso che dovrà stare solo con lei. Prima all'Albereta e poi in Argentina, dove passerà il Capodanno insieme alla sua nuova famiglia, composta dal nuovo compagno Elio. Portarlo in Argentina, cosa che ha fatto con pochissimi uomini, è segno di legame profondo. Non c'è niente di male in questo, nel crearsi una nuova vita, con nuove persone. Ma se questo significa limitare la famiglia di altri, allora qualcosa non quadra. Al povero Antonino è stata data una sola possibilità, prendersi un albergo o una casa ad alberata, e passare lì da solo con lei il 25 dicembre. Cosa ovviamente impossibile. Belen voleva solo passare per quella che la possibilità l'ha data. E così si dovrà accontentare di guardare le immagini della sua bambina attraverso le storie di Instagram di un cellulare. E così si dovrà accontentare di guardare le immagini della sua bambina attraverso le storie di Instagram di un cellulare. Quindi, ragazzi e ragazzi, questa sembrerebbe una notizia shock. Fabrizio Corona, in quello che ha scritto, avrebbe accusato Belen di non aver dato possibilità ad Antonino Spinalbese di vedere, di passare le feste natalizie, sua figlia Luna Marie. Perché lei, appunto, se n'è andata ad alberata e poi in Argentina. Ora, raghi, effettivamente, nelle parole che lui ha scritto, c'è una cosa vera. Perché vi ricordate quando Antonino Spinalbese è andato al Grande Fratello Vip e dopo una o due puntate hanno smesso completamente di parlare di Belen Rodriguez perché era stato diffidato da dire il suo nome. Ecco, da quel momento sia Belen che Antonino non hanno mai più parlato dell'altro. Ok? Nelle interviste, nelle uscite, nei social, non hanno più detto niente, come se il proprio ex o la propria ex non fossero mai esistiti. Evidentemente c'è dietro un problema, appunto, di diffide, di denunce o comunque, come abbiamo capito, ci sarebbe un rapporto ormai distrutto legato semplicemente dalla figlia che i due si contendono. Ora, dopo queste parole di Fabrizio Corona, che vi ricordo anche lui è stato un ex di Belen, Belen Rodriguez non è stata a guardare perché ha deciso di rispondere con un Instagram Stories che andiamo a leggere insieme. Oh, questo è la vecchiaia, ragazzi. Non ci vedo più. Ho letto degli articoli alquanto diffamatori e equivoci sul mio conto, su mia figlia riguardanti il Natale. Ho visto post e stories create ad hoc cercando di passare da vittima davanti al pubblico alla gente italiana, provando ancora una volta a mettermi in cattiva luce. Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente e lo sai bene. Qui si rivolge ad Antonino. Invito la persona che mi ha tirato in ballo ad occuparsi di sua figlia durante tutto l'anno. Non porre attenzione solo sul giorno di Natale. L'amore serve sempre, non solo alla vigilia. Ecco, ci tenevo a sottolinearlo e invito a non nominarmi mai più pubblicamente, ma in forma privata. Altrimenti sarò costretta a spiegare la verità ancora una volta. Ormai non ho più problemi a farlo. Buone feste, Belen! Ma perché Belen ha pubblicato questa storia e ha scritto queste parole? Non mi sembra tanto un attacco a quello che Corona ha scritto, ma è un attacco mirato ad Antonino, perché nelle ore precedenti a questa Instagram Stories, Antonino Spinalbese, forte del fatto che ormai la notizia era diventata virale, grazie a Fabrizio, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram scrivendo questo. Sono purtroppo costretto per l'ennesima volta a dovermi difendere da accuse altrui infondate. Sono un padre premuroso e naturalmente amo mia figlia più di ogni altra persona. Lei è la mia ragione di vita. Essere padre vuol dire amare incondizionatamente una figlia, stare in silenzio e accettare passivamente tutte le decisioni e capricci altrui. Accettare contro la mia volontà di essere messo da parte, sentendo continuamente insulti e bugie sul mio conto. Ma tutto ciò va bene, perché io sono il padre e io sarò sempre disposto a soffrire sempre e solo per mia figlia. Chi è genitore sa bene quanto sia fondamentale essere presente ogni giorno nella vita di un figlio. Essere genitore non significa avvalersi di babysitter, autisti, personale di servizio e preferire tutti gli altri parenti o nuovi compagni alla presenza del padre. Essere un buon padre non significa nemmeno avere milioni in banca per prendersi cura di una figlia. Posso anche essere un pezzente e ne sono orgoglioso perché sono una persona di sani principi e valori. Pronto a prendermi cura di mia figlia, penso, per 24 ore al giorno, per il resto della mia vita. Solo chi ha figli può capire cosa significhi averli vicino o lontani. Quanto ti possano mancare ed io in questi giorni di festa non ho potuto vedere mia figlia né per la vigilia né a Natale e come se non bastasse, domani, senza il mio consenso, partirà per un viaggio. Ragazzi, ragazzi, qui c'è una guerra di cui noi non sapevamo nulla perché da una parte c'è il padre che dice io vorrei stare con mia figlia tutti i giorni, vorrei stare anche durante le vacanze di Natale con mia figlia, non importa avere milioni come hai te, ma non me lo lasci fare, ok? L'altra, d'altra parte, risponde. Innanzitutto, tutti i gossip che sono usciti sono fake. In più, mio caro padre di nostra figlia, smettila un po' di far la vittima sui social, non mi nominare mai più, perché sennò ti faccio un Q grosso così, e occupati di tua figlia non solo durante le feste di Natale per diventare virale e far parlare di te, ma durante tutto l'anno. Donde sta la verdad? Non lo sappiamo al momento, fatto sta che Belen comunque continua anche a rispondere ai vari commenti che gli arrivano a questo punto sul suo profilo e tipo ve ne metto due, in uno lei dice è successo che quando le persone non hanno un'occupazione rompono le bolse a quelli che ce l'hanno per trarne vantaggio. Non gli è bastato andare al GF grazie alla sottoscritta. Oh, l'antipatia c'è, è innegabile, c'è anche un rancore, c'è anche un odio verso Antonino, ma la guerra tra i due ragazzi e ragazzi non finisce. Perché dopo il post di Antonino su Instagram, dopo la Instagram stories di Belen e i commenti, Antonino fa ancora delle altre Instagram stories per continuare a dire la sua opinione e comunque per far capire a chi lo segue o a chi si è interessato di questo gossip la sua versione dei fatti. Lui infatti scrive Mi vergogno molto di essermi esposto per la prima volta mediaticamente con queste nuove risposte. Sarà la rabbia, saranno tante cose, ma in questo ci rimetterà mia figlia ed io l'ho promesso, ma non faccio mai cose a caso. Devo pensare al suo futuro che da questo momento è cambiato perché due persone adulte non sono riuscite a risolvere i loro problemi in privato. Ma la disperazione mi ha portato a questo e credo che questo sia un nuovo inizio per me. E spero che lo sia per tutti quei padri costretti a situazioni folli. Scusatemi, i padri zero diritti. La buttata ovviamente in uno dei problemi che qui in Italia comunque ci sono perché io comunque figlio di genitori prima separati e poi divorziati l'ho vissuta anch'io, no? E è palese, mi è stato palese che la ragione comunque è andata a mia madre anche se alla fine la ragione non ce l'aveva per forza di cose, ma che in tribunale ha avuto tutti i comfort e tutti i vantaggi del caso. Però, ragazzi, c'è una cosa di cui io, su cui io mi voglio un attimo soffermare prima di continuare. Perché lui, sul post che aveva pubblicato prima di queste Instagram Stories, ha scritto che Belen aveva portato la loro figlia in Argentina senza il suo consenso. ma non penso che sia una cosa legale. Non è possibile una cosa del genere perché se stiamo parlando di una figlia o un figlio che è minorenne e che è un bambino, anche se i genitori sono separati, anzi, forse ancora a maggior ragione se i due genitori sono divorziati e uno di due la vuole portare all'estero in un altro paese al di fuori dell'Italia e soprattutto in un paese in cui serve addirittura un passaporto, serve una firma in un tribunale sia della madre sia del padre. Quindi, non penso che Belen sia stata così scema da prendere la figlia e portarsela in Argentina facendolo vedere a tutto il mondo su Instagram se non aveva la firma di Antonino. E se lo ha fatto è scema ma non mi sembra Belen mi sembra una persona molto intelligente quindi io non so se credere ad Antonino oppure no ma c'è questo fatto che non mi torna. Fatto sta ci usa parentesi fatemi sapere voi cosa ne pensate qua sotto tramite commento ovviamente dopo queste Instagram Stories Belen Rodriguez ririsponde con altre Instagram Stories Distinto signor Antonino Se c'è una cosa che mi ha sempre contraddistinto è il fatto di non essermi mai nascosta da nulla. Ho sempre fatto tutto quanto alla luce del sole forse anche fin troppo. Gli italiani mi conoscono da 15 anni e lo sanno prendendomi anche giudizi e pregiudizi senza paura certo non inizio a mentire con Levi mi faccia la cortesia le minacce sono molto gravi e hanno bisogno dell'attenta supervisione di un giudice non si scherza con le mamme perché se ci fai spaventare i nostri figli percepiscono tutto quanto adesso metto il telefono in pausa e parto serenamente per l'Argentina spero tu abbia qualcuno di bravo per difenderti perché ho perso la pazienza le bugie hanno le gambe corte ricorda ci vediamo in tribunale saluti hashtag basta fumo hashtag vai a lavorare e poi continua mamma mia adesso basta troppa importanza l'ho fatto perché non permetto a nessuno più di mandarmi sotto terra adesso torna al posto tuo ragazzi questa reputation era di Belen Rodriguez oh a me mega zamballino ora lasciate perdere se ha ragione lei ragione lui lo sapranno loro poi comunque si sono fatti causa a vicenda andranno in tribunale lo deciderà un giudice noi però da casa da vecchie ciabattone di periferia che durante le vacanze di Natale non sapevamo cosa fare ci sguazziamo su queste ose e questa nuova Belen che non ha più peli sulla lingua per nessuno e dice le cose come stanno almeno la sua verità a me piace tantissimo ve lo devo dire e non è finita qui perché Belen risponde anche a chi l'ha criticata di mettere e comunque i figli sempre alla merce di questi gossip e di queste diatribe che secondo i più dovrebbero essere dei panni che si lavano in famiglia e non in pubblico lei dice io devo lasciare mia figlia fuori dalle mie frustrazioni quello che faccio lo faccio per protezione semmai tu lascia i tuoi commenti da un'altra parte se mi minacciano sia chi sia gli taglio la strada le liti tra genitori andrebbero evitate soprattutto in pubblico si fanno per i bambini se si ricevano minacce risolverò tutto davanti a un giudice per i bambini questo e altro e poi commenta ancora sotto un altro commento ma guarda mi credi sono ancora una volta senza parole che andassero a lavorare così non hanno tempo di essere cattivi chi non ha una vera occupazione rompe a chi ce l'ha non sto più zitta continua adesso tremate perché sono tornata più forte di prima e non concedo più a nessuno di farmi fuori di nuovo e ancora ma poi nessuno sa la verità che è davvero gravissima adesso ci penseranno gli avvocati la prossima volta ci pensa due volte cosa ha fatto davvero ce lo domandiamo tutti ormai hai tirato il sasso dicero lui non è venuto a prenderla il 25 il 26 perché non ha voluto vuole solo trarne vantaggio mediaticamente ma non sa ancora con chi ha a che fare e a questi commenti comunque Antonino c'è da dire o almeno io non l'ho trovata non ha risposto evidentemente il suo avvocato ha detto guarda basta smettila non ci affondiamo ancora di più salviamo il salvabile ma a parlare ancora di questa vicenda sarebbe l'avvocato di Belen stessa che si chiama Giuseppe Russo pubblicando una nota al Corriere della Sera in cui avrebbe scritto questo la signora Belen Rodriguez si è recata in Argentina con la figlia Luna Marie nel suo pieno diritto il padre avendo acconsentito al rilascio del passaporto per Luna Marie non poteva negare il consenso al viaggio non rientra nel suo arbitrio ah ok quindi ha risposto alla mia domanda di prima per di più manifestando la sua diversa intenzione solo il giorno prima della partenza pur essendone a conoscenza da settimane con evidenti finalità meramente ostative e strumentali sino ad oggi il signor Spinalbese pur potendo vedere la figlia tutti i giorni si è concesso lunghe assenze come nel periodo da settembre 2022 a febbraio 2023 quando ha fatto il grande fratello ed una frequentazione intermittente e poco attenta alle esigenze della bambina motivo per cui stante il comportamento tenuto dal signor Spinalbese e le sue ultime esternazioni non veritiere la modalità di visita tra padre e figlia verranno regolamentate dal tribunale ok l'avvocato di Belen quindi ci dà in qualche modo molte risposte alle domande che ci siamo fatti che mi sono fatto anch'io mentre vi esponevo i fatti e se la verità sta qua Antonino ragazzi ha fatto la vittimina però dall'altra parte io posso anche provare a capire un padre che si vede tra virgolette portare via la figlia ma se tutt'al più hai dato il consenso per fare il passaporto e sapevi di questo viaggio da settimane mi sembra anche strano che un tuo abbia fatto nulla fino al giorno prima non lo so mi sembra una cosa fatta tanto per far parlare di sé ma Belen dopo questa lite sui social con uno dei suoi ex ha comunque parlato e ha continuato a parlare anche di altri ok perché arriva prima questo commento in cui un utente le scrive non capisco come facevi a stare con quel piccolo uomo riferito secondo me a Antonino Spinalbese e lei risponde è sa mentire meglio di quanto voi non crediate ho vinto la lotteria con i bugiardi io hashtag cretina io quanto fa millennial l'hashtag in fondo alle frasi e questo è solo l'inizio perché a parte che ci fa intende che tutti quelli con cui ha avuto a che fa sono dei falsi bugiardi cronici ma arriva adesso la vera bomba raga in cui un'altra utente le commenta un post così Belen continua a dire la tua e zittire tutti io adoro il gossip e i pettegolezzi quanto ci piaci così stronzetta ps poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito con la Marcuzzi era vera Belen confido in te baci buone vacanze e a questo commento Belen risponde confermo qui è bastata una parola per scatenare il putiferio su tutti i siti di gossip italiani Belen Rodriguez ha confermato dopo due anni che c'era nell'aria questo pettegolezzo che Stefano Di Martino l'avrebbe tradita anche con Alessia Marcuzzi cosa che se non vi ricordate noi ne avevamo già parlato avevamo già affrontato questo argomento durante uno dei nostri spill of the sea perché il gossip era uscito ma Stefano Di Martino all'epoca si era affrettato a smentire dicendo questo tra tutte le cose che sono girate questa fake news è la più grande qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi l'ho appena sentita e ci siamo fatti una grossa risata io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico so che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole però quando si tocca delle famiglie con i bambini vi prego evitiamo vi prometto che se mi fidanzo se mi namoro se mi namoro vi faccio sapere ve lo giuro ora i primi a dare la notizia della presca tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi furono Dago Spia e si parla del 2020 e anche Investigatore Social che su Instagram ormai sono anni che nei suoi profili dà degli scoop in super anteprima tra le altre cose si becca anche tantissime offese ma poi alla fine è peggio di Dago Spia perché il 99% di quello che lui scrive come gossip come spettegulezza come esclusiva si rivela vera e anche questa volta questa cosa o l'ha confermato Belen se lo sa la cornuta significa che è verità e a proposito dell'investigatore social Belen Rodriguez dopo il putiferio che ha schettenato con il commento in cui conferma la tresca tra Stefano e Alessia si affretta a fare questa Instagram Stories volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica che è il nome di investigatore social perché anni fa mi ha voluto avvertire e io non solo non li ho creduto ma si è preso delle brutte parole adesso deve solo dire avevi ragione e grazie per i preziosi aggiornamenti ora a parte qualche errore di scrittura comunque è argentina si sbaglia tutti sbagliano gli italiani pensavo sì comunque si capisce che già all'epoca già anni fa l'investigatore social le avrebbe detto in qualche modo penso scritto in privato della tresca tra Stefano Di Martino e Alessia Marcuzzi e all'epoca Belen non gli aveva creduto adesso con questa storia fa un mea colpa e dice avevi ragione te e a questo Alessandro risponde ripubblicando la storia di Belen scrivendo contro tutti e tutti solo la verità da oggi spero tu possa ascoltare i miei consigli che ti ho sempre dato dato che vedevo che ti stavi spengendo scuse accettate e poi continua perché non è finita non sei una santa nemmeno io ma questa storia che la donna naput mentre l'uomo è un santo doveva finire perché poi perché lui ha tanti santi ti ho sempre aperto gli occhi o almeno ci ho provato è vero e l'ho sempre fatto pubblicamente mettendoci la faccia sono troppo grande per dire le bugie alla fine l'hai capito pure tu le parole che ci siamo detti non possiamo cancellarle abbiamo tante cose da dirci e per forza di cose non ci siamo potuti dire questi anni siccome qualcuno ti vietava di parlare con me chissà perché grazie per le belle parole tu sai taggando Belen Rodriguez con l'ultima frase evidentemente quando Belen si è rimessa l'ultima volta con Stefano Stefano le avrebbe vietato di parlare o di scambiarsi messaggi con l'investigatore social proprio perché a questo punto lui sapeva che la verità era quella ma ma ragazzi l'investigatore social ormai è un fiume in piena perché continua con un'altra Instagram stories questa volta contro Alessia Marcuzzi in cui scrive vogliamo parlare di come Alessia guardandola negli occhi a Belen le diceva ti giuro io e Stefano siamo solo amici e non c'è mai stato niente non credere ad Alessandro Rosica cioè lui ah 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 e non è finita qua perché c'è un'altra bomba lui scrive tranquilli che ora tireremo fuori il resto su questa storia dalle pempere pempempate dietro i camerini ai viaggi di nascosto insieme mamma mia ragazzi qui sì che il gossip ci dà da fare ci fa anche parlare e ci fa anche appassionare a questa storia perché a quanto pare Alessia e Stefano pempere pempavano nei camerini ci vuole può andare in un camerino di un altro comunque siamo in due studi diversi o sono vip io faccio quello che voglio trovo il modo per far zittire la gente che mi vede ma ragazzi e ragazzi in tutto questo inizia una mega shitstorm sotto tutti i post di Alessia Marcuzzi su Instagram dove tutti chiedono chiarimenti spiegazioni o comunque conferme o comunque smentite cosa che però lei non fa in vacanza al mare continua a pubblicare come se non fosse successo niente si fa la sua vacanza cercando di sorvolare a tutta questa storia cercando di far finta che i suoi post non siano presi d'assalto da commenti che vogliono parlare solo di questa storia la stessa cosa sta facendo Stefano De Martino ma investigatore social pubblica penso il giorno dopo un altro post sul suo Instagram e questa volta ragazzi esce il nome di un'altra ragazza VIP che sarebbe stata con Stefano lui scrive il gossip più focoso dell'anno stiamo sicuramente parlando di Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino Antonella la stiamo conoscendo oggi nella casa del grande fratello VIP lei che con la sua grinta sta letteralmente spupazzando la casa più spiata d'Italia Stefano è sempre stato al centro del gossip complice la mamma di suo figlio Belen il belloccio napoletano ha corteggiato per qualche mese la GF Antonella Fiordelisi che alla fine ha ceduto alle tentazioni la frequentazione super riservata molto focosa c'è stata tra la metà del 2021 e l'inizio di quest'anno alla fine però dopo aver ristaurato un rapporto molto dolce decidono di allontanarsi i due ad oggi sono rimasti molto amici tanto da aver ricevuto anche un grandissimo augurio dovuto al recente ingresso al GF VIP di Antonella Fiordelisi inoltre non si seguono più sui social proprio per mantenere la dovuta riservatezza cosa ne penserà la genosissima ed agguerritissima Belen Rodriguez Scoop scop esclusivo questo è un post che lui pubblicò appunto nel 2002 ma lo ha ripubblicato tramite Instagram Stories aggiungendo questo scritto Scoop Scoop non citato e nascosto dagli amici di Stefano e Queen proprio per parargli il sedere una delle tante donne con cui Stefano si è intrattenuto ho foto chat e video Antonella era single e quindi non c'è problemi Stefano però era impegnato senza rancore Stefano De Martino fa parte dei giochi buon anno e dopo questa questo ripost di questa Instagram Stories sembrerebbe che Belen Rodriguez abbia litigato con Antonella Fiordelisi e ce lo scrive sempre investigatore social questa volta su Threads in cui scrive Scoop dell'ultima ora Belen ha litigato con Antonella e le ha tolto il segui dopo aver visto i miei post Scoop sul mio profilo oggi dove attestavano che la Fiordelisi fosse andata con De Martino tempo fa oggi sta succedendo di tutto e poi scrive buon anno anche a voi Belen mi dispiace solo che tu sia arrivata in ritardo il post a più di un anno ora per il momento tutta la storia è questa seguiranno aggiornamenti sicuramente anche perché mancano all'appello altri protagonisti di questa storia Alessia Marcuzzi prima o poi risponderà a queste illazioni a queste cose perché sono sicuro che la pressione aumenterà a dismisura verso di lei e verso Stefano Stefano non penso che risponda perché ormai l'abbiamo visto la sua nuova linea editoriale è quella di elevarsi al di sopra del gossip che lo ha fatto mangiare per anni perché ormai è un presentatore affermato però però questa nuova lite di Belen con Antonella al di fuori dei riflettori perché al di là di quello che ha detto investigatore social noi non sappiamo niente sicuramente prima o poi verrà fuori qualcosa qualche spettacules in più detto questo se il 2023 è finito con gli ultimi mesi pieni zeppi di gossip pieni zeppi di scandali grazie mille VIP italiani vi amo questa rubrica esiste solo grazie a voi sembrerebbe che anche nel 2024 questo spin on the tea avrà mega successo perché se gli scandali chiamano noi rispondiamo e spettegoliamo fatemi sapere a questo punto cosa ne pensate perché continuo a mettimi l'occhiali cosa ne pensate di tutta questa storia a chi date ragione a chi credete se vi piace anche a voi questa Belen Rodriguez senza più peli sulla lingua e anche un po' più stronzetta io la amo e niente mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto se vi ha fatto spettegolazzare un po' così con amici perché tanto ormai siamo tutti amici noi vecchi ciabattone di periferia iscrivete al mio canale se ancora non l'avete fatto per oggi è tutto davvero ci vediamo domani con un nuovissimo video ciao ovviamente se ci saranno delle novità ci sarà un nuovo episodio di Spinning the Tea